Sindaco, presentazione oggi del progetto EMMA ci può spiegare in che cosa consiste? Consiste in un finanziamento di circa 300 mila euro del Ministero degli Interni per l'inclusione sociale e l'educazione a comportamenti civici importanti perché questo è un territorio, quello dell'Unione, ma in particolar modo qui dove siamo, di questi comuni che fanno parte dell'Unione più periferici alla città di Pesero hanno avuto in questi anni una quantità di immigrati, molti dei quali sono nati qua, immigrati dall'Italia, immigrati dall'Europa e dal mondo e quindi la coesione, l'inclusione sociale, l'interculturalità, l'interreligiosità, cioè la capacità di mettere insieme e di farla diventare una comunità di una città che oramai è di un territorio che ha le caratteristiche delle grandi città del mondo quindi diciamo formare le persone per modo di dire, nel senso che voglio dire le scuole, i funzionari delle strutture, degli enti locali, delle aziende sanitarie tutto quello che è pubblica amministrazione ma io direi anche nel rapporto col privato EMA è questo progetto importante di inclusione, di coesione e c'è anche la struttura qui logistica dentro la sede dell'Unione contro le discriminazioni e le discriminazioni di ogni genere Quali sono gli interventi che sono previsti per questo progetto? Abbiamo contattato innanzitutto le scuole per capire se realmente ci fosse questo bisogno e chiaramente le scuole ci hanno subito detto sì perché chiaramente avendo dei numeri abbastanza importanti in ogni classe non è facile per gli insegnanti dare quell'aiuto e quell'attenzione in più ai bambini che chiaramente conoscono di meno la lingua o che comunque conoscendo la lingua a casa non trovano poi un aiuto reale da parte dei genitori che molte volte non parlano l'italiano e quindi c'è stato veramente grandissimo entusiasmo da parte delle scuole hanno già trovato e parlato con le famiglie che hanno più bisogno e quindi noi siamo proprio pronti, anzi le scuole tutti i giorni ci chiamano per chiederci quando inizierà questo progetto di aiuto compiti noi adesso ci siamo focalizzati perché ripeto avendo pochissime ore da dedicare abbiamo pensato più alla scuola primaria ma poteva essere anche una risposta per le scuole medie poi sono stati gli insegnanti che hanno focalizzato l'attenzione particolarmente sulle primarie